Progetti vincenti legati a scuole sicure per i comuni di Alzano, Lombardo e Albino, che insieme ad Oggio Sotto e Caravaggio sono stati destinatari dei contributi concessi dal Ministero dell'Interno nel quadro dell'iniziativa Scuole Sicure per la realizzazione di progetti finalizzati a rafforzamento dell'azione di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. In entrambi i paesi si punterà sulla videosorveglianza e ad uno maggiore controllo delle zone più a rischio ed in primis sull'aiuto di cani antidroga. Ci siamo aggiudicati un bando emanato dal Ministero dell'Interno finalizzato ad attività a contrasto dello spaccio di droga nei dintorni delle scuole. Non abbiamo particolari evidenze sul territorio comunale ma abbiamo ritenuto utile partecipare a questo bando perché ci dà la possibilità anche solo di sensibilizzare sul tema o comunque di prevenire dalle situazioni che potrebbero ingenerarsi nei dintorni delle scuole alzanesi. Il punto più attenzionato su quale ci siamo concentrati è sicuramente Piazza Caduti di Nassiria, un punto particolare perché è la fermata centrale di Alzano Lombardo per quanto riguarda la Tebbe e è il punto dove transitano gli 860 ragazzi del Liceo Amaldi. Questo bando ci ha permesso di acquisire 14.000 euro che sarà suddiviso in due tranche. Una tranche sarà finalizzata al potenziamento della videosorveglianza, in particolar modo sarà allocata una telecamera con quattro visuali in via Locatelli in modo che potremo vedere l'intera via e l'ingresso delle scuole. L'altra tranche invece sarà utilizzata per finanziare delle operazioni antidroga attraverso una pattuglia cinofila che avrà appunto la funzione di prevenire e anche se è del caso di intervenire per reprimere eventuali reati che si dovessero individuare.